Allora, nello scorso episodio, ovvero nella scorsa parte, madonna quattro parti, sta casa richiederà troppo tempo Mi sono appena accorto che ho finito l'anglesismo e questa cosa non va tanto bene Allora, però nella scorsa parte, però quattro parti mi sembra un po' eccessivo Magari, 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 potrei fare tipo un episodio, va bene, quattro parti andranno bene Credo che, possante di pietra, offerto da Wolfix 2008 Ehm, tolgo tutta sta roba E metto a cucinare la sabbia Please stay with me No Scusa, si possono cuocere i mattoni? No Adesso, perché io sta roba non la... Aspetta Si possono cuocere veramente? Nooo, non ci credo Wow Facciamo una cosa Perfection Metti sta sabbia E intanto direi di... Ehm... Fare una cosa Andare a cercare... Altra andresite Allora... Allora... Intanto... Devo... Devo... Devo fare tipo... Ehm... Agli scalini I bordi Così almeno non cado di sotto malamente E potrei avere una morte gloriosa contro un mostro più forte di me Così almeno... Nei commenti non mi... Non mi derida Dezè Dezè Un po' sulla situazione Allora... Intanto... Siamo riusciti a fare... Sono riuscita a fare un giaciglio Questa cosa già mi piace Poi... Ehm... Sto facendo... Ehm... Adesso sto facendo... Le... Le cose... Le... I bordi... Delle scale Così almeno... Non si cade Perché poi in anni cadono e mi denunciano E cheat dell'Hongamer Stavolta lo cheitto Magari piazzando... Piazzando meno blocchi a caso Ci sono Allora... Potrei piazzare qua Qua Oh... Guardate che bel giaciglio Ok... Già 12 di vetro Ce la possiamo fare Piano piano perché sennò poi... Ok... Allora... Oh... Giusto giusto Mi sa che me ne servono più di... Oh mio dio questa cosa mi sta... Dando troppo fastidio Uno... Ok... Mi muterò un attimo perché devo stare concentrato ... Ok... Ok... Allora, qua tecnicamente c'è, oh, tuo zio è bomb, ma tranquilli che ci abbiamo un'altra Ok, e se può già iniziare? Allora, odio farlo, ma lo devo fare Vetro, 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 sei l'invenzione più geniale della storia Vetro, 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 se non ci sei io ti ammazzo Vetro, 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 sei l'invenzione e canzone del vetro offerta da Wolfix Vetro, 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 sei il materiale più utile di tutti Ok, per qua, per qua, per qua Fa sto vetro Ho problemi tecnici con il microfono Vetro, 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 vetro Però mi sa che non basta Eh no Intanto che cuoce, allora Faccio una cosa Guarda, a che c'è di animeui E magari prendo altra sabbia Allora, 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 allora Sì, sì. Allora, 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 il problema che è qui, sì, sì, sì. Allora, c'è la sabbia. Non vedo animali qui in giro. Che pizza. Che bello, fate una cascata. È un po' di sabbia, questo? Yes. Mucca. Mucca, vieni qua. Vieni qua, mucchina. Mucchina. Minzeca! E quanto sei fragile! È un po' da barbaro. C'è, è un po' da bar... Uh, carissimi! Un po' da barbaro, diciamo, se lo... Spaccare, tipo, così... Uh, maiali! Spaccare... Mangiare la carne cruda, però... C'è Crazy. Mo' me ne esco con la battuta della Crazy. Avevo visto che c'era un altro magliare, oppure ho le visioni. Sì, ho le visioni. Vetro, vetro, vetro. Ok, e intanto che metto queste a cuocere, cerchiamo altre... Delle zite per il... Per il soft. Ovvero il soft... Che non sta per soft, proprio le cose soft. Ma per il soffitto. Ovvero softy... No. Ok, sarebbe da dire tipo... Soff. Ok, soft. Ecco, soft. Per il soft. Intanto... Ho preso questo carbone... Dimmi che... Che di solito... I materiali... Tipo quelli là... Tipo l'andellezite... O se no lo faccio in vetro. Non lo so. Ah, ma c'era altro carbone? Io non l'avevo visto. Allora... 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 Allora, vediamo se ha cotto almeno due pezzi. Eeeh... Dimmi che l'abbiamo... Che con questi riusciamo a finire. Ne manca uno! Ok, posso tirare via la sabbia. Eeeh... Si, posso dire che di aver finito. Magari faccio un'altra cosa. Potrei fare... Il soffitto di ciottoli e pietra. Intanto ho pure spaccato... Che bello. Ho pure spaccato... Dove? Ok. Di ciottoli e pietra. Così è molto più bello e colorato. Starò muto un attimo perché... Cioè, toglierò proprio il microfono perché... Mi sa che... Ce lo devo un attimo slegare e attorcigliare. Ciao! Oggi che corre felice nel prato... Dove le mucche hanno appena cagato... Poi inciampa in un filo d'erba... E si ritrova coperta di memma. Dov'è la pietra? Ah, ecco. Basalto! Ragazzi, ricordatevi. Il basalto è la materia prima. Però è bello! Cioè... Rispetto! Aia! Guarda... Finisco... Finiamo il soffitto... E poi l'episodio si conclude. Sappiatelo. Allora... Ce la possiamo fare! È una corsa contro il tempo perché il limite di tempo che posso registrare è tipo... 15 minuti e sono già 13 minuti di registrazione. Che bello! Le ansie della vita. Forse dovrei fare... Magari posso fare un altro po' di... Non so... Altre quattro torce me le faccio perché... Dobbiamo... Illuminare bene il posto. Eh... Già che ci sono faccio tipo così. No, ok. No, no, no. Non va bene. Non va bene. Così. Scusate. Sorry! Ups! Questo? Sì, ho finito! Allora ragazzi, questo video può finire qua. Anche perché non c'ho più voglia di registrare. Quindi, vi saluto e... Ciao!